Circoli e locali pubblici sono stati spezionati dagli agenti della squadra volante del reparto Prevenzione e Crimine Calabria Settentrionale di Cosenza. Controlli che hanno interessato anche persone sottoposte a regime di sorveglianza, cittadini italiani ed extracomunitari, tutti con precedenti di polizia a loro carico. Le verifiche si intensificano nelle aree della città di Cosenza più sensibili e che risultano essere crocevia di reati, di criminalità diffuse in particolare di piccolo spaccio anche a giovanissimi man mano che si avvicinano le festività natalizie. Nel corso dell'ultima operazione di controllo sono state sequestrate a carico di ignoti diverse piante di marijuana coltivate in basi posti all'interno di un cortile condominiale del centro città, mentre gli accurati accertamenti su locali, su circoli, privati vengono effettuati al fine di verificare se gli stessi costituiscono un abituale ritrovo di pregiudicati, onde eventualmente applicare i provvedimenti amministrativi finalizzati alla sospensione o revoca delle relative licenze.